Cosa? L'ho capita adesso! Salvatevi, l'ho capita adesso! E ragazzi, come va? Io sono Ferinichi! Sì, sono Stef, e che se oggi chiama Pokémon Survival! E finalmente siamo tornati a registrare questa serie! Non vedevamo l'ora, ci sono tantissime cose nuove che non vediamo l'ora di farvi vedere, sicuramente lo state già notando dalla forma della casa che è cambiata! Esattamente! E siamo prontissimi a iniziare, sono felicissima, felicissima come sempre! Abbiamo notato! Allora, il nostro Bulby e Eevee stanno ovviamente benissimo, sono stati tantissimo di livello perché per tutta la settimana siamo tornati nel server a dargli da mangiare, che sennò poverini sarebbero morti di fame! Da bravi allenatori di Pokémon quali siamo, giustamente! Le cose che sono cambiate, allora, prima di tutto la forma della casa, come vedete, è un po' più grande. Abbiamo messo i letti di Pokémon che sono fantastici, certo, con questo legno molto da sopravvivenza hanno poca a che fare, ma sono bellini e colorati e mettono allegria. Ma la cosa più figa è qua, abbiamo una porta, la finestra che ci collega alla casa, credo, di Pepo, se mi ricorda bene. È di Pepo quella, è di Pepo. Sì, ok, non ero sicurissimo, si salgono le scale e qua costruiremo il nostro secondo piano. Questa cosa è stata fatta in tutte le case, così tutti potremo farci anche il secondo piano ed è molto, molto, molto figo. Altra cosa fantastica del villaggio che secondo me dà quel tocchetto in più di felicità, chiamiamolo così. Sono le casette tutte colorate, dovrebbe essere un arcobaleno anche se poi i colori non sono tutti giusti, ma facciamo finta di nulla. Ovviamente la nostra è quella gialla e sono tutte coloratissime, bellissime. Esattamente, mancano giusto le immaginette, ma vedrete che a breve compariranno anche quelle e sarà fighissimo. Non hai fatto vedere la cosa più bella? Falla vedere tu. Che le torce delle case sono del colore della casa. Quindi la nostra è gialla, in quelle è verde, nell'altra è rossa. Vi devo far vedere, vi devo far vedere, perché non si può esprimere la figaggine di questa cosa, soltanto dicendo. Voglia, voglia, voglia. Guardate che figa, questa è stata l'idea più geniale del secolo. Tutte hanno esattamente il colore ed è troppo bello. Poi non so se avete notato che c'è un piccolo vasetto in ogni casa. Infatti noi qua possiamo coltivare delle bacche, così abbiamo diciamo un l'orticello proprio piccolo, piccolo, piccolo. Personale. Che dici, ci proviamo oggi a piantare qualcosa? Allora. Che dici? Perché abbiamo, allora. Io sarei anche felice di piantare. Abbiamo tante cose da fare. Sì. Tantissime, ovvero anche sistemare la casa che, ovviamente, con le scale si è ingrandite dentro un disastro. Dobbiamo arredarla, certo, certo, certo. Quindi arredarla, farla meglio. E non lo so, forse riusciamo anche a piantare qualcosina. Vedremo. Sai che mi preoccupa? Che ho paura che non riusciamo poi a innaffiare, perché effettivamente io... In effetti come si annaffia? Non so, non lo so. Provo a vedere dei punti in grammi, però non ho visto nulla simile. Credo che con la borraccia non possiamo, perché abbiamo... Le borracce ce le abbiamo. Questo qua, ragazzi, è il campo di Esball. Lo sport numero uno del Pokémon Survival. Esatto. E tutti si staranno chiedendo, come funzionano gli Esball? Esatto, però io non voglio spoilerare nulla. Sai perché? No, non voglio dire nulla. Allora, è molto curioso. È uno sport molto divertente che ci è venuto in un momento di pazzia, perché secondo me non eravamo... Pazzia pura. Molto sani di mente. 23 di sera e di solito noi a quell'ora stiamo già dormendo, quindi non eravamo lucidi. Sì, stavamo giocando con Espy Giochi, Rattori X e Loki, e ci è venuta in mente questa idea genialissima. e la vedrete dopo perché probabilmente verranno anche Eren ed Espy a giocare con noi, così vi possiamo far vedere benissimo questo nuovo sport dell'isola. Sarà un due contro due e ci giocheremo all'onore, perché questo sport è più importante di catturare Mew. Io te lo dico. Qua la cosa più importante è vincere ad Esball e non catturare Mew o qualsiasi leggendario. Si giocherà fino alla morte finché uno non ammazza l'altro. Chi perde ammazza il Pokémon. No, sto scherzando. Ammazza tutti. Così. No, dai. Peri. Allora, andiamo a prenderci un po' di risorse? Sì, assolutamente sì. In compagnia dei nostri Bulbi e Eevee che ci seguono felicissimi, così se c'è qualcosa ci difendono. Ma ho notato che i Pokémon si sono nascosti dalla paura. Eevee è nato a livello 5, ma adesso è un livello 36. E gli cicano paura di Eevee. In cute e timore in tutto il posto. Ma scusa, ma guarda, gli do un pugno così. Scusami, scusami, perdonami, ti prego, perdonami, ti prego. Non gli ho fatto nulla. Aspetta a me. Perché? Come? E hai fatto malissimo ad Eevee. Ma io ho mirato a Eevee, non ho mirato a te. Lo sento piangere, ok? Lo sento che sta piangendo e l'hai ferito nel cuore. E hai ferito anche me. Almeno è fedele, guarda. Ti rimane accanto anche nel momento del bisogno. Certo, sta piangendo. Non lo puoi rendere triste. Tu hai la mano in testa con me. Sì, perché sono disparata così. Guarda. Che momento. Rappresenta al meglio il mio stato d'animo, guarda. Ok, ci sei. Facciamo pace, dai. No. Perdonami. Vieni, Eevee. Ok. Saremo da soli io e te, tanto se un livello 36 stendi tutti qua. Andiamoli lì. Ma io non ho gli utensili, tu? Neanch'io. Ok, la torniamo un attimo a casa, va. Oh, mamma mia. Oh, mamma mia. Oh, mamma mia quanto son brutto. Oh, mamma mia. Oh, mamma mia. Prendi ancora peggio con i vestiti in pelle, oh mio Dio. Dai, già ero brutto, ma così è una tragedia. Ti ho buttato gli stivaletti, li hai visti? Sì, eccoli, 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 non li bevo. Prendiamo legna, prendiamo legna, cantiamo anche belle canzoni. La smetto subito, dai. Grazie. Una cosa fantastica dei Pokémon che voglio far vedere subito ai consolini è che praticamente quando noi abbiamo l'inventario pieno, lo vedete a destra, in basso a destra, praticamente l'ultima iconcina, io vedete adesso mi posso muovere piano, 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 piano perché la legna pesa troppo. Però posso prendere, tenere premuto è, aprire l'inventario di bulbi e passargli la legna. In questo modo, lui fa un po' da mulo, è un bulbasauro mulo. Quindi non solo ti aiutano a combattere, ma ti aiutano anche con il far delle cose. Esatto. È perfetto, è perfetto. Eh sì, fanno comodissimo, sono multiuso per un sacco di cose, consumano tantissima carne proprio a profusione. Eh, a voglia, a voglia, a voglia. Quindi hanno anche un costo, sono difficili da mantenere, però almeno fanno un po' di lavori, ci difendono, ci aiutano a prendere altri Pokémon, li possiamo usare come muli, eccetera, eccetera. Ok. Con iniziando un po' a correre lento, perché ho l'inventario pieno, però dai, prendo anche io un po' di pietra, perché se ricordo bene dobbiamo creare una cosa che costa tipo 120 di pietra. Eh vabbè. Quindi c'è bisogno. Il tuo compagno, Eren Blaze, è morto. Ah povero! Povero, Eren! Cos'è successo? Cos'è brutto è successo ad Eren? Aspetta, questo è il momento. Cosa? L'ho capita adesso. Salvatevi, l'ho capita adesso. Ferenichi sta affogando, la devo salvare! No, sono qua, dietro di te. E io ho il peso, ho messo un sacco di punti nel peso, quindi sono strapiena di pietre, posso fare quello che voglio. Ma in realtà anche io, però... Quanti ne hai? Ho 260. Io ho 250 e ancora riesco a tenerne bordo. Ma perché ho 240 di peso, infatti, sono pieno di roba. Eh, ma diciamo la verità, io sono più forte di te. Ma questa comunque... Ma quando dormi! No, 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 questa era la conferma che io sono più forte. Ma guarda che bella torcia che ho. Oh, che bella. E poi c'è Bulby che sta portando anche lui legna, infatti poverino è appesantito anche lui. Poverino! Non ce la fa più, è stanchissimo. Muoviamoci attorno alla casa che sta facendo buio. Prendi un po' di bacche. Prendi un po' di bacche che ci servono, per favore. Perché ci servono le bacche? Perché le Narcoberry ci serviranno per tamare il prossimo Pokémon che vorremmo. Che dobbiamo ancora decidere. Dobbiamo fare anche il frigorifero, perché altrimenti ci scadono. Come facciamo? Piano, 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 piano. Però il primo frigo non è troppo difficile. Aspetta che lo guardo al volo, va, visto che me l'hai nominato. Quello base non dovrebbe essere troppo complicato. Ma dove sta? Dove sta frigo? Ti avevo visto prima. Eccolo qua. Conservatore si chiama. Ok. Allora, per fare il conservatore, vediamo un pochettino. Possiamo già farlo. Pietra, legna, paglie e fibra. Abbiamo tutto. Ce lo facciamo il frigo così conserviamo un po' di bacche. Eh sì, perché durano molto di più. Sia le bacche che la carne, così durano molto più tempo e di conseguenza ci mettono di più a scadere e a diventare inutili. Ed ecco lo spettacolo del nostro villaggio di notte. Ma che bello! È bellissimo, come vedete tutte le torce del colore delle case e allo stesso tempo le torce classiche che abbiamo sempre avuto che si accendono. È meraviglioso. È più bello di notte che di giorno, davvero è fantastico, bellissimo, bellissimo. Allora, iniziamo a piazzare un armadio che tu avevi già creato. Sì, ne ho creato qualcuno, però prima non avevamo lo spazio per metterlo, giustamente. Anzi, ne ho due. Sei felice? Sì, molto, molto. Fanno comodo, fanno comodo. Gli armadio sono delle ceste più grandi, praticamente. Ione, mentre che tu decidi dove metterlo, creo il frigorifero, così inizio a fare qualcosa di utile. Poi io volevo fare una gabbia dove chiuderti dentro, però no, costa 110 di legna decisamente troppo. Bellissimi gli armadi? Ti piacciono? Sì. Sì, direi qui a fianco, perché comunque avanza un po' di spazio, secondo me ci sta. Così? Sì, sì. Perfetto. Ottimo. Allora, facciamo ordine. Qui metti tutte le bacche e tutta la carne che hai. Ok. Anche le cose scadute, perché anche le cose scadute sono utili in questo gioco, quindi tutto quello che può scadere, mettilo lì dentro. E quanto dura in più? Allora, fammi vedere se ce lo scrive. Vale la pena. Oggetti deperibili con la polvere epirica. Ah. Abbiamo sbagliato? No, credo che dobbiamo mettere anche un oggetto, non è proprio un frigo, è più una cosa dove costruisci le cose utilizzando un oggetto. Ci serve la polvere epirica. E come ce l'otteniamo questa polvere? La polvere epirica è questa, si fa dal mortaio, aspetta che controlliamo. Ah, vabbè, ce l'abbiamo il mortaio, quindi si può fare. Mi piace questa roba, mi piace un sacco quando facciamo le cose di sopravvivenza. E la polvere epirica si fa con selce e pietra. Ok, si può fare. Ne faccio un po', ne faccio un po', non esagero. E come devi fare? La devi mettere dentro il frigo assieme alle cose che abbiamo, sì. Credo di sì. Fatto! Abbiamo distrutto le due ceste, abbiamo messo alla sinistra i materiali proprio principali, quindi legna, paglia, pietra e selce, mentre alla destra tutto il resto, molto semplicemente. Abbiamo distrutto le due ceste che erano davvero bruttine, lasciate lì. No, voglia, voglia. E adesso la casa è molto meglio. Abbiamo il frigorifero in azione che ci fa conservare le cose, che è una figata incredibile. E io direi che dovremmo andare a prendere un po' di narcobacche. Ciao, Fereniki! Ciao, Fereniki! Sono un pulbi a salto! Te fermo un attimo! Cosa vuoi fare? No! Non darmi un pugno! Dai, lo sai che poi mi butta giù? Lasciami in pace. Te l'ho dato il pugno, però. Lo so, però non mi hai buttato giù. Non so se l'hai preso tu o se l'ha preso lui, ma non mi interessa, te lo sei preso. E vai, prendiamo piantine, tantissimo, dobbiamo cercare quindi un seme di narcobacca. È raro, ma se lo troviamo possiamo iniziare a piantare appunto le narcobacche e avere quindi le bacche che ci servono per stordire i Pokémon e tamarle, perché altrimenti... Ma secondo te il seme si può ottenere in qualche modo dalle bacche? No, non credo. Credo. Non lo so. Cioè, perlomeno io non ho idea. Però tanto, di sicuro le mettiamo in frigo, quindi le narcobacche comunque ci servono. Seme di narcobacca, ha trovato! Ma davvero? Sì, andiamo. Ma che fortuna! No! O per sbaglio ho mangiato il seme! Sei un disastro, sei una persona terribile! Non davvero due secondi. Però... Sei una persona terribile. Era raro. Certo che andrò a cercare un altro, scusami. Pronti? Vai, ci siamo. Vada, vada. Vado in battuta. Dobbiamo provare poi anche quella cosa della schiacciata. Ma sono superi a fare la battuta. Eh, la schiacciata stanotte in camera da letto. Dopo questa mi sa che ti droppo la esponcola qui. No! Scherzavo! Oddio, oddio, oddio! Oddio, oddio! Ecco qua. Oh no! Che inizia! Punto! Bella battuta! Mamma mia! Bisogna puntare il suo Eren che ancora non è abituato. Cosa? Perché sfrutta? No, 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 prendilo, prendilo. Preso! L'ho mollato. Oh, ce l'ho fatta! No, l'ho preso! Alleluia! È la prima volta che non facciamo punto. Finalmente! Mi sa che questi sono i veri punti. Esatto, riuscire a prenderlo il vero punto. Ma no! Non funziona! Non devi fare muro! Acchiappalo, 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 acchiappalo. Ha fatto la cacca in testa in volo! Ma mi sembra... E ti ha andato sulla spalla la cacca. È tutta la notte che si esercitano questi due. Non è vero! Acchiappalo, 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 acchiappalo. Eh, ma come cavolo fa, però? Ma come? Dovete cliccare la E 20 volte in mezzo secondo. È l'unico modo per acchiapparlo. Cioè, non è possibile, non è possibile. Con la tastiera meccanica viene bene. L'ho preso! Oh, ce l'ha fatta! Oh, grande! Guarda! Era meglio non spiegargli la tattica, forse. Oh, oh, oh! Che tiro era? Mamma mia, che tiro! Preso! Mamma mia! Come hai fatto da prenderlo? Sta diventando abbastanza concitata la cosa. Sto capendo, sto capendo come si prende. Tiro alto. La presevi? Bravo! Oh, vedi! Ottimo, ottimo! Non dovevo spiegare le nostre tattiche. Allora, vai veloce, vai veloce. Ok. Vedi, sì. Bisogna confonderli con un tiro strano, tipo... Così era? È drittissimo, è il tiro più dritto che abbia mai visto. Era terribile. Mamma mia, abbiamo capito come funziona. Ti faccio il passaggio, lo prendi e tiri. No, è impossibile. Se la manchi, non dormi. No, è impossibile questo. Pronta? La manchi avete perso. Niente cena. Vai. Vai. Oddio, oddio, oddio. Prendilo. Vai, tiralo, tiralo subito, però. Eh, va bene, non è che posso far tutto. Eeeh, va bene, prendete tutto pronto. Se lo vorrei fare più lento. Vai, 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 Aaron. Sono sotto la rete. Vai! Sghiaccia! Ha fatto la cacca. Ha cagato in volo. Lo fatto? Buona! L'ho fatto! Buona! Mamma mia! Ok. Tieni bene! Uè, non è vero! Che hai fatto? Mi hai detto? Prendilo, prendilo. Fuori, 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 fuori. Dannazione. Non troviamo come fare la tinta. E quindi andiamo a tamare il nuovo Pokémon per la nostra casetta. Perché ne abbiamo una testa. Direi che adesso ce ne vuole uno per entrambi. Sei d'accordo? Mi sembra giusto, certo, certo. Sai che cosa ho vistato poco fa? Che secondo me è perfetto? Un Ponita. Oh! Buongiorno, Ponita. Buongiorno, buongiorno. Allora... Salve! Le tiriamo delle frecce, ma è solo perché la vogliamo come amico. Io ho sette frecce. Tu quante ne hai? Eh, cinque. Cinque, cinque, cinque. Oddio. Ma secondo te ci aiutano? Ma come li mettiamo? No, stato passivo. Allora, aspetta. Deve diventare con lo stato tipo... Imposta stato su aggressivo. Ok? Aspetta, aspetta che lo imposta. Ma sei sicura? Non è che poi lo ammazza? Eh, potrebbe. Però dobbiamo sperimentare. Vai. Spara, 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 spara. Guarda, Ivy, che va all'attacco. Mio Dio, sei bellissima. Quante... Ok. Aspetta. No. L'ho un ucciso. Ponita, dove siete? Ci serve un altro Ponita, abbiamo sbagliato. Tranquillo che non ci vogliamo uccidere. Ecco, 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 ecco. È stato un errore con tuo fratellino, ok? Livello 10. È colpa dei nostri Pokémon che sono un po' troppo aggressivi. Spara. Vado. Colpito. Spara. Ok. Colpito. Mi sta dando certe testate che davvero... Ok, sta scappando. No, blocca Ivy, blocca Ivy, blocca Ivy. No, no, Ivy, perché? No. L'ho impostato su passivo. No, non si ferma. Ok. Io non ce l'avevo su aggressivo, un accidente a lui. È svenuto? Sì. Ok. Allora, dammi un attimo. Hai della carne? Dimmi che Ivy sei tranquillizzato. Eh, per ora qui è fermo. Ok. È fermo qua. Sì, ho la carne addirittura pregiata. Ottimo. Perché l'abbiamo presa dal suo fratello. L'abbiamo presa, non si dice dolce. Da un macellaio di fiducia. Ok, vai. Giusto? Ok, ok, ok. Gli ho dato tre di carne super potente. Allora, stordito è stordito. Abbiamo almeno un po' di narco berri. Eh, fammi vedere... Ce le ho tutte nel frigo. Corro a prenderle. Eh, no, prendine un po' qua da terra. Non faresti in tempo. Sì, sì, sì. Prendine un po' qua. Vado. Un pochettino le trovi e dovrebbero bastare. Ha mangiato. Ok, ottimo. È già quasi fatto. Perché appunto abbiamo usato la carne super mega efficace, quella super rara, che scade ragazzi in pochissimo tempo, quindi per quello è difficile. E quindi mangio un'altra volta e Ponita è nostro. Ho già un Ivi e un Ponita, sono felicissima. Il Ponita è una... È mio. È femmina, quindi è mio. No. È di entrambi. Però più mio. No, no. Io ho Ivi. 50 e 50. Compensiamo un po'. Ma l'hai scelto tu Ivi, non me frega nulla. Non starlo a sentire. Non ho detto nulla, ok? Siamo solo io e te. Ringrazio che non ho delle frecce. Diventerei bellissimo quando ti evolverai. Sarei fantastico. Se ti evolverai, non lo so. Non toccarlo che ti ho visto. Avevo un pennello. Ce l'abbiamo fatta. Sì, ma un attimo, gli volevo dare il nome. Fiamma. Semplice, femminile, carino. Spim. La stai già cavalcando? Sì, è dietro Ivi, guardami. Aspetta. Corrivi. Corri parecchio. Uh, sì che corro. Corri Ivi. Corri dietro di me. Guarda Ivi che bellino. Che cosa bella. Che scena terribile, guarda. No, che scena stupenda. Io e i miei due Pokémon. Venite dentro, Belli. Forza, forza, forza. Tutti dentro. In fila. È ora della cena. Ok. Venite da Papa Steph. Bonita. Aspetta, fammi mettere... No, devi spostare il Bulby. 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 Vieni qua. E con questa bellissima immagine dei nostri tre Pokémon parcheggiati dentro casa in una parte carina, fatta apposta per loro, direi che ci possiamo fermare. Prossimo episodio, ragazzi, ci dovrebbe essere un evento super speciale, non vi diciamo nulla per non tirare spoiler, ma sarà davvero epico e probabilmente registreremo tutto l'episodio in compagnia, perché teoricamente se si fa quell'evento appunto si formeranno dei gruppi. Esatto, saremo in gruppi ovviamente per non creare troppo caos e quindi sarà fantastico. Speriamo si faccia perché non vado l'ora. Esattamente. In ogni caso poi dobbiamo farci tutta la pittura, sistemare un po' la casa, probabilmente qualcosina lo facciamo anche tra un episodio e l'altro, così troverete tutto ancora più figo e direi di fermarci così. Beh ragazzi, se non ci è così, se ciò 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 è la prima volta che ho veduto il nostro video potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi. Ciao, alla prossima! Ciao, ciao! Ciao, ciao!